LUNEDÌ DI RIPOSO 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 Siamo consapevoli di essere una buona squadra che è in salute e quindi affronteremo l'Inter per cercare di batterla. Senti, per te a livello personale è una stagione importante, possiamo dire quella della conferma. Pietro, tu hai parlato anche di obiettivi di nazionale in estate. Sì, il mio obiettivo è quello di fare bene nella Sampdoria, confermarmi giorno dopo giorno e cercare di crescere. La nazionale sarà una conseguenza se dovessi fare bene con la Sampdoria. In terra elvetica e di casa ha retto Ziegler, protagonista dall'inizio della partita di ieri. Ziegler ha raccontato le proprie emozioni ai nostri microfoni, non perdendo la possibilità di far luce sugli obiettivi personali e sul prossimo futuro. Era molto speciale per me giocare qua perché sono cresciuto qua e era una bella esperienza. Come è andato questo tempo che oggi ti ha concesso Mazzarri? Diciamo che non ho potuto fare vedere quello che volevo, però ho fatto il lavoro che mi ha chiesto e certamente io potevo anche fare gol. Sarebbe stato molto bello, però io sfrutto sempre le mie opportunità quando posso giocare e alla fine sono contento. Come stai tu in questo momento e quali sono le tue prospettive per l'anno che sta per cominciare? Sto molto bene, sono in forma, adesso sono andato anche in nazionale e sono tornato subito. Ho anche chiesto al misto di giocare giovedì sera e mi sento bene. Per la stagione mi auguro di giocare il massimo di partita e di aiutare la mia squadra. Quasi tutto bene ieri perché gli infortuni che Mazzarri tanto temeva, seppur lievi, si sono purtroppo registrati. Bonazzoli e De Sena non hanno concluso la gara per via di un trauma distorsivo contunsivo alla caviglia sinistra e di un trauma diretto al polpaccio della gamba sinistra. Aciacchi guaribili in tempi relativamente brevi ma resta da affrontarli. Così come da affrontare resterà l'Inter, sabato sera a Marassi. La prevendita è iniziata, si attende il tutto esaurito e una cornice degna di un esordio davvero col botto.